E' impressionante vedere come un bestione del genere riesca a fare i movimenti millimetrici così precisi. Precisione millimetrica. 3, 2, 1 e... Ora deve contare il numero di cappelli con presa minimetrica che solitamente i macchinari del genere non fanno assolutamente. Grazie. Grazie. E' un po' Grazie la città della stessa in questo modo l'accessione la stessa in questo modo la città ora è già la luce in questo modo la città è già già in questo modo è stato un gioco in questo modo Grazie a tutti.